Sei fra i relatori presenti uno di quelli più esperti. Che consiglio daresti alle giovane eleve che sognano di fare del trading una professione? Beh, guarda, è una domanda abbastanza complessa questa perché consigliare di fare questo tipo di professione è qualche cosa che io non farei mai. Innanzitutto bisognerebbe avere un minimo di talento per poterlo fare che può essere verificato tramite iniziando questo tipo di attività a piccolissimi passi. Anche, non so, provando a tradare, adesso si posso con le eleve, aprendo un conto da 100, 200, 300 euro al massimo e verificare la propria capacità. Conseguentemente dopo se si hanno dei risultati, se si dimostra di avere un certo controllo psicologico e magari anche una capacità previsionale o di adattarsi a quello che fa il mercato e di controllare il money management e controllare effettivamente la tua abilità tramite i risultati, puoi cercare di intraprendere parzialmente, mai totalmente, mai avere l'idea di fare solo questo per vivere, però parzialmente di iniziare la professione. So che da qualche tempo stai lavorando sui certificates. Come mai hai aggiunto questo tipo di strumento? Sì, i certificati sono uno strumento complementare alla mia attività, specialmente per il fatto che talvolta la liquidità, oggi se ho della liquidità in eccesso, che tengo al di fuori del trading, non si sa più dove metterla. Sappiamo tutti che ormai i rendimenti dei titoli del debito sovrano di tutti i paesi, compreso l'Italia, sono se non negativi prossimi allo zero, dobbiamo trovarci il modo alternativo a questo tipo di panorama nuovo. Conseguentemente i certificati, in una mia ottica di mercato che vede l'idea di un trading range, ovvero di un mercato che può salire e scendere, ma che rimane, fino a quando abbiamo questa politica sperimentale di quantitative easing, che rimane in un range ben delimitato, secondo me non può scendere più di tanto, posso dare anche un'indicazione di area, 19.500 punti, o al massimo può arrivare fino a 25.000, fino a quando ci sarà il QE di Draghi. In questa situazione cercare un extra rendimento tramite dei certificati che premiano l'effettiva mancanza di un drawdown, ovvero di un calo repentino dei prezzi, o magari anche nel caso di un certificato reverse che premino una mancata, schizzo troppo avanzato delle quotazioni, può essere premiante e si può cercare in questo tipo di certificati un rendimento che ovviamente è graduale ai rischi che uno prende. Può essere già sufficiente anche e non difficile da fare un rendimento del 5-6% con questi tipi di certificati.